Benvenuti in questo nuovo video, ciao a tutti ragazzi, benvenuti appunto in questo nuovo super video Questa è la parte 5 del raduno L'ultimo video è stato molto 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 sad Infatti anche tutti questi video saranno, cioè questo video, l'ultimo video del raduno sarà molto sad Però è successa questa roba Se non volete che succeda, ormai è successo E niente, io direi subito di iniziare Ok, siamo arrivati Buongiorno, ma ci sono ancora delle ragazzine? Sì, sono lì Grazie Ah ah, avete visto, li ho fatto proprio male Ragazzi Sì, che c'è? Che c'è? Tu, tu, sei cacciata all'atletica Cosa? Non potete? Sono io che decido qua E l'ale soprattutto Ma io non ho fatto niente Sì, appunto, lei mi ha fatto proprio una beata mazza E allora perché Adela è finita in ospedale? In ospedale è finita Sfigata, sfigata Tu adesso sei cacciata da qua Levati, vattene, vai Vattene No, 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 ti prego, ti prego, ti prego Ti prego, micchi Ti prego Non mi interessa Basta Fuori No, noi no però, eh Sì, anche voi due No Io ti aiutami tu O ve ne andate subito dall'atletica Andate al coso, all'hotel E vi prendete le vostre cose E ve ne andate Da tutta la vita Oppure Far intervenire Ic Oh, oh, quanto paura Ok, basta Io la picchio No Io lo fermo Fermo Muovetevi Subito fuori Intanto ritorneremo Muoviti Muovetevi Veloci Fuori Il conto Nessuna patata Dove è io Ecco fa Di niente Ciao Muovetevi Fuori Eccoci Ragazzi Ciao Non c'è ancora svegliato No Però hanno detto in teoria che Vi daranno le stampelle Speriamo, dai Il voto di là Sì Andiamo Una ricoverata qui C'è Managgia Ragazzi L'ale Non lo so Sì 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 Tranquille Non ce ne darà Ce ne darà Vi va da sorgere Avete fatto quello che dovete fare Con le ragazze Sì sì Cosa avete fatto No L'abbiamo cacciata dall'atletica Brava Sì perché quelle lì Non mi permettono di stare qui Sì vabbè Allora Io chiedo al tipo Se posso dormire Per questo No E qua tanto le stanze Sono libere Sì anche io Se vuoi No 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 Signore Sì Avete bisogno di qualcosa No Possiamo dormire qui Sì tanto non ci sono pazienti Anche le vostre compagnie Potete venire No Grazie Stai tu Dormi No Dormo qui Ok Ok ho capito Vediamo Dormire Buongiorno Aspettiamo Speriamo se si è risvegliata No No Andiamo a cercarla Ecco ti Allora L'abbiamo trovata Sì Vieni che sveglia Eccomi scusate Sì l'abbiamo trovata Vedo Sì ragazzi Beh Allora Adesso Aspettiamo una mezz'oretta Ma fra gli altri Ragazzi Ma voi siete ancora qui Se Vabbè Adesso Mangiate qualcosa Se abbiamo famissimo E mangiate Mangiate tranquilli Grazie E beh ragazzi Adesso Tanto dovrebbero svegliarsi Adesso Speriamo dai Speriamo 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 Sì dai Tranquilli Voi andate nell'altra stanza Mi accompagno Sì sì Sappiamo dove dobbiamo andare Perfetto Andiamo Dobbiamo farci una bella dormita Dobbiamo Ci siamo No no Io sto qua No no Giulia ha dormito Dai Perfetto Dai Tu stai qui Lascio un po' il telefono Tu stai qui E dormiamo Ok Perfetto Dai Giulia C'è la tele? Dormi ancora Dai Aspettiamo un pochino Magari Andiamo di là Sì Non mi era mai capitata Sto rovale E meno male Che non si era mai capitata Aspettateci Se arriviamo Eccoci qua Siete qui Ragazzi Grazie Scusi Se mi levo Grazie Perfetto Ci siamo? Ok Siamo Aspettiamo ancora un po' Si fallo le 10 Si è svegliata Ciao Vado a visitare I tuoi amici Ok Ok Ragazzi 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 Cosa è successo? Cosa è successo? Cosa è successo? Che è successo? È morta È morta Che è successo? Che è successo? Si è svegliata Sì Andiamo Venite 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 Vi porto Andiamo noi due Alla per adesso Sì venite 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 Adele Ciao Ciao Oddio Scusi 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 Siamo pagati Ok Ciao ragazzi Ma io che ci faccio qui? Eh Non sarei lunga Siedimi Allora Te devo portare a fare un po' di controlli E E poi nel caso puoi tornare a casa Sì Che bello Meno male Adesso andiamo di là Sì Andiamo Andiamo a fare gli ultimi controlli Aspetta Levo di questa Vi siete Ci Bevi Grazie Perfetto Andiamo Perfettissimo Finito Guarda che abbiamo finito tutto Ma dopo ti sposto in questa sala Va bene Grazie Vieni qua Allora Vediamo Un po' di cose Aspetta Ecco Devo visare gli altri Ragazzi Eccola Venite 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 Chi va a visare Fra Vado io Vado io Vado io Fra Giulio Ma che è successo? Si è svegliato Sì Sì Ti va a visare là Ti va a visare là Spera ragazzi Dai Eccoti Ciao Ciao ragazzi Ciao Ciao tesoro Ma tu chi sei? Ora non ti ricordo chi sono Ma sto scherzando Babbo Ciao Come state? Si Signori Aspettate un attimo Andavatevi un attimo Si Tranquilli Tanto adesso gli faccio gli ultimi controlli Poi può tornare a casa Si Che bello Tanto ormai torneremo tutti a casa Dopo Come a casa? Si Dopo quello che è successo ieri Non vogliamo altri casini Sinceramente Si vabbè dai Allora Vediamo Oddio Vediamo Puntura Puntura Ohia Dai Stai benissimo Perfetto Vai Oddio Ti devi tormentare Devi dormire Siamo troppo felici Che tu sei sveglia Si è vero Io ti aspettavo Tranquillo dai Oddio santo però Ormai sono sveglia E meno male Allora signori Si Andate a chiamare gli altri Si arriviamo Ragazzi Si che c'è Venite Venite ragazzi Si Andiamo Eccoci Allora Voi siete giusti gli allenatori Si io sono la migliore amica Vivo con lei praticamente Si è vero Perfetto Allora Stai qui però Su qua Per adesso Lei dovrà adossare queste sta pelle Tutti i giorni Tutti 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 i giorni Non ci sarò più colorate Eh Provo a cercarle Perfetto Grazie mille comunque Perfetto Allora le tengo io Dai Facciamo che le tengo No le tengo io Scusate Ragazzi sono mie Riesci a tenerti in piedi Aspetta Oh Tieni Ok Perfetto Ok possiamo andare Cammini Già Beh si Ho la fortuna di camminare Possiamo andare ragazzi Si dai Adesso prendiamo le nostre cose Dove sono le nostre cose Sono di là Ok andiamo Dai allora Però guarda I vestiti della ragazza Sono di là Perfetto ragazzi Allora potete andare Vi auguro una buona giornata Grazie Ma avete già chiamato I miei genitori Si si Sono Hanno già deciso Che Vieni a casa Tu vai a casa di Viola Si Andiamo a casa insieme No no Andiamo a casa tua Però Perfetto Quello male Aspettate signori Se Per la notizia Si è abbastanza Non potrà fare atletica Per due mesi No No ma come E non puoi fare atletica In queste condizioni Però posso andare agli allenamenti E portarvi Si chiaro Perfetto Va bene Grazie mille Allora Andiamo ragazzi Ci vediamo Ragazzi ci vediamo Quando siamo arrivati a casa Perché Ora che Spostiamo tutto È un casino Ci vediamo quando siamo a casa Che bello Che si è svegliato Si è vero Andiamo a vedere Che punto è Ecco Ma gli altri Sono andati via Ok Sistema le mie cose Allora Brava Tu sistema Tutte le mie cose Si Che bello Posso tornare a casa Non mi ha tirato quel puglio Ero come Se non Stassi proprio Ma Cioè Non 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 mi sentivo più I piedi E le gambe Ti capisco Tranquilla Dai Tanto adesso fai pausa Si Peccato però Perché poi sai che L'atletica piace Lo so Giulia è la tua più grande Passione Questa cosa Mi piace veramente Tanto Ok Ti faccio la valigia Sì Sì ragazzi Sì ragazzi Direi che non sono A portata Sì Direi proprio Questa di Nina Ma Nina Non lo so Però penso Si è andata a casa Era molto traumatizzata Quando ti hai visto Ah Ok Ok Bambini Mi manca Eh lo sappiamo Che ti manca Nina Dai Però adesso puoi tornare a casa Non sei felice? Sì soprattutto Perché sono con la mia bestie Haha Vedete Io sono la sua bestie Non ti vuole la tua roba? Ma tu avevi solo quello? Sì Madonna Avevi pochissima roba Sì Ma posso salutare Gli altri? Sì Ciao ragazzi Ciao Come stai? Eh più o meno Il cuore ha molto zoppa Ecco Dai stai tranquilla Adesso andiamo a casa Sì mi è andata a casa da sole Sì sì Tanto Ci viene a prendere Sua mamma adesso Ok Vedo ragazzi Mi voglio bene Ciao vedo Ciao Ciao ragazzi Ci vediamo All'allenamento Ma non puoi fare allenamento? Lo so Soltanto che verrò a vedervi Tutti i giorni Va bene Ci vediamo Vi avviso quando torno a casa Va bene Avvisaci quando sei a casa Sì tranquilla Andiamo a casa? Sì andiamo dai Siamo tornati Ecco Ma tu resti da noi? Posso restare? Sì sì Tu cerca la mia Della tua amichetta qui Sì Aspetta Che appoggio questo Portafogli E appoggiamo Andiamo Guardate chi è tornato Tesoro Ciao papà Ma che hai fatto? Colpa di Martina Immaginavo Tranquilla dai Adesso stai qua con le stampelle Però Almeno ci sei Sì Tua sorella ti aspettava Davvero Se era felicissima che tornavi Sorellina Sì Dove sei? Dove sei? Dove sei Adele? Eccomi Ciao 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 Ma perché quelle cote lì? Perché non posso camminare Ma chi è stato? È stata Martina Quella lì Ma che cantina Io la picchio quella È troppo Io attento Sorella Ciao Viola Ciao Ciao Noi andiamo di là a sistemare le robe Sì andiamo Andiamo Guarda che bella la mia stanza Che bella Stra bella Sistemiamo una roba che Oddio santo qua È troppa roba tu Sì Infatti Quando non ci sono I cassati sono leggermente vuoti Ma leggermente proprio Sì È un bel po' vuoti Direi No Questo è tuo Sì scusami Mi puoi costare i tuoi vestiti? Sì Ovvio Oddio teso Cioè Sei la mia migliore amica Mica ma è strana Brava Sono conto con te E meno male Che sono la tua migliore amica Come farei io senza vita? Grazie E il pigiama? Boh Boh Andremo a recuperarlo Da un'altra parte Aspetta Dio alla posta A comprarlo? Sì Ah qua è altra roba Sì Però questa La tengo sempre qui Ok va bene Andati qui Andiamo Sì Andiamo Aspetta però Volevo cambiarmi Perché i miei vestiti? Perché non avevo altri vestiti? Allora Io metto questo qui Che è più comodo Sei brava Io metto questo Allora posso? Sì Ti sta benissimo Grazie Andiamo Ehi Dove andate Gigio? E noi andiamo alla posta Devo comprare un po' di cose Va bene Ai soldi? No prendo la tua borsa Ok va bene Ma poi dopo giochi Con me Non posso per adesso Perché? Perché non posso sedermi Devo stare in piedi Va bene Andiamo Ti 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 Madonna Mi fa gente Di oggi Cosa prendete? Un po' di cose Poi abbiamo Tanto quel sacchetto Va bene Eccoci qua Vediamo un po' di Chosen Un po' di cose Allora Visto che Adesso Guarda che bella Guarda Possiamo farla abbinata Aspetta Prendiamo una scatola E leviamo questa roba Perfetto Perfettamente Allora Poi Preferi No io preferisco No Allora io preferisco Questa qui Va bene Prendi quella lì Come al solito Da bambina Devi farla Guarda che bello Sto zaino Mi piace Vai Ti lo tiro dentro Tanto poi Paghi d'ora Sì Quindi sono Di tua madre Però proprio io Bisogna prendere Poi dopo Andiamo Ma dopo Ma poi dopo No Non c'è niente Questa è che Pelle un gesto di frutta Buona la frutta Mettiamola via A me piace la frutta Ragazzi A voi piace la frutta A me sì Poi dopo Andiamo a prendere Un po' di colpa Per la skin care Chiaro Mi piace la skin care Perfetto Meno male Ma qui Non c'è niente Ma non c'è proprio niente Oggi Non c'erano niente Oggi Non lo sto scherzando Ma non c'è niente Veramente Ma queste robe Non servono Cosa che dovevamo Prendere Il tuo pigiama Giusto Guarda che bello Ui Non posso prenderlo Ma noi Non c'erano niente Tutti Tutto 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 Non lo troviamo Sto Sto Cosa Che ne so Io Dove stai Vediamo se Qui Nei paraggi Aiuto Dove sei No ragazzi Rimiccia Dove sta Io non stavo scherzando Rimiccia Non lo trovo Eccolo 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 Era quello che avevi Chi ora Sì Evidentemente l'ho perso Che bello Guarda ti piace questo cappello Sì però Non per questa stagione Vabbè Io direi che prendiamo Solo questo Perfetto Facciamo il pacchetto regalo E Tengo io in mano Capito Andiamo Ehi signorine Pagate Sì sì Tranquilla Tieni Grazie ragazze Ok Grazie Ciao Eccoci arrivati Perfetto Wow Che bello Ma cosa Che il vestito Prendiamo la tua mamma Sì Grazie Mettiamo dentro Madonna mia Che babba Che sono Ok Ma non ci sta Lascia qui Che regalo Ok Che bello Ma buongiorno Signorine Che hai fatto Storia lunga È inutile Che stasso spiegare Madonna mia Tu non sai Non farti male Ma Vabbè Ah ma guarda Che c'è Che c'è La maff Compriamola Siete maggioranni ragazze Sì Perfetto Va bene Allora potete comprarle Grazie Prendiamo le due gialle Due azzurre Tutto Guarda Prendiamo qualche libro Per mia sorella Che gli piacciono Dai libri Questo non è Perché servirà a noi Questo è molto carino Questo però è carino Andiamo A vedere Se c'è altra roba Roba da skin care Sobita Prendila Sì vado Vado Posso appoggiare questo qua Sì appoggia appoggia Perfetto Prendi un altro sacchetto Che non bastano Eh non è colpa mia Manco Vabbè Prendiamo tutta l'era Per la skin care Sì grazie mille Carine questi piantini Ma sono orribili Ma Vabbè Questa limone ti piace? No Ah mannaggia Andiamo Wow i giochi Qua cosa c'è? Bello questi pendi Ma Non sai manco Cosa sono Non mi interessa Mannaggia Andiamo di qua Di qua Non c'è sta niente Ma Al piano di sopra Non c'è niente Cioè non c'è mai niente Quindi inutile che andiamo Perfetto Non avete i cosi Per i pacchi legali Sì è lì Perfetto Grazie Ok E' uno Poi Ricambiamo Questo Ci stanno Sì perfetto Ci stanno i pacchi Ok Dovete pagare Signorina Sì sì Stai tranquilla Te la pago Perfetto Bravissimo Grazie Ciao Noi andiamo a casa E niente ragazzi L'ultima parte Del raduno Chiuro Più un'altra parte E' conclusa Spero Che questa serie Vi sia piaciuta Anche se gli ultimi due episodi Sono un po' Sad Però Ragazzi C'è sempre qualcosa di triste Che succede E niente Ci vediamo Nel prossimo video Cioè Dove farò una nuova storia Non so ancora bene cosa Però la farò Anzi No ho già in mente Non mi spoilerò niente E ci vediamo Nel prossimo video Bye 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 bye